Bene, riprendiamo il nostro studio della goniometria e parliamo oggi di una generalizzazione di quello che abbiamo visto negli angoli associati. Ricordate sicuramente che abbiamo visto che per esempio il seno di alfa più pi greco o pi greco più alfa vale meno sen alfa, perché alfa e pi greco più alfa sono angoli diametralmente opposti e quindi sommare alfa all'angolo piatto produce un cambio di seno nel valore del seno. Ma in questo caso abbiamo che gli angoli associati avevamo un angolo noto che è pi greco cioè abbiamo il valore che conosciamo e l'altro angolo alfa è ignoto cioè un angolo qualsiasi. Ma che succede se ci presenta la situazione in cui entrambi gli angoli possono avere un valore qualsiasi? Ad esempio che succede se ad alfa sommo pi greco quarti o pi greco terzi cioè un angolo che non sia un angolo di quelli visti? In questo caso dovrei risolvere situazioni del tipo il seno di alfa più diciamo beta oppure anche la differenza il seno di alfa meno beta come faccio a riferire il seno di una somma di angoli o a differenza ai valori di seno coseno degli angoli noti alfa e beta quindi quello che facciamo oggi cioè il titolo della lezione è le formule per la somma e la sottrazione di angoli è se volete una generalizzazione delle formule che abbiamo visto per gli angoli associati cioè è un'espressione delle quali gli angoli associati sono un caso particolare ok? questo è l'obiettivo per far questo torniamo al nostro cerchio goniometrico andiamo per gradi andiamo piano piano per gradi andiamo piano così siete contenti questo è il nostro asse delle x questo è l'asse delle y qui c'è l'origine prendiamo la circonferenza goniometrica per esempio scusate che passa di qua 4 e 4 di qua di qua e di qua se riesco a fare un cerchio decente più o meno ecco questo è 1 1 meno 1 meno 1 ok? e immaginate due angoli qualsiasi che nel senso alfa individua il punto P e beta individuerà il punto P prendiamo che sono P qua questo è il punto P quindi questo indichiamolo con rosso questo è l'angolo alfa e poi il punto Q quindi questo indichiamolo in verde è l'angolo beta ok? e quindi la loro differenza in particolare immaginate questo angolo qui ok? questo sarà avrà una misura data da alfa meno beta l'angolo P O Q sarà la differenza alfa meno beta ecco immaginate di utilizzare questo chiamiamolo punto A ok? A a coordinate 1 0 se alfa individua il punto P questo significa che P ha come coordinate cosen alfa e sen alfa e cosen alfa se è giusto e cosen alfa e sen alfa se beta individua il punto Q significa che Q ha coordinate cosen alfa e sen alfa proprio perché siamo sul cerchio goniometrico ok? e la differenza dei due angoli alfa meno beta individua questo segmento PQ fatemelo disegnare in che ne so in viola ecco questo segmento PQ questo segmento appartiene al triangolo OPQ ed è opposto all'angolo che ha come ampiezza la differenza alfa meno beta ora immaginate di idealmente di prendere questo triangolo OPQ e di ruotarlo in modo tale che Q vada a coincidere con A e che P vada a coincidere con fatemi fare un altro disegno ecco quel punto D in modo tale che quest'angolo questo ha l'ampiezza che ci serve cioè quest'angolo misura alfa meno beta quindi D è una posizione sulla circonferenza goniometrica individuata da alfa meno beta individua il punto D le cui coordinate quindi saranno il coseno di alfa meno beta e il seno di alfa meno beta il punto D si trova qua non so se riuscite a vederlo e quindi questo segmento lo disegno ancora in che cos'era viola di A è congruente a PQ sono la stessa lunghezza di A alla stessa lunghezza di P Q ok proprio perché prendo punti individuati cioè un triangolo che ha come due sono due triangoli isoscili che hanno come due cateti i raggi cioè come due lati i raggi e il terzo lato essendo opposto a angoli della stessa ampiezza è congruente quindi PQ è grande come Q di A quindi due triangoli sono congruenti lo scrivo meglio O P Q il triangolo PQ è congruente a O di A per quanto appena visto Sfruttiamo questa proprietà cioè il fatto che i due lati opposti all'alfa meno beta sono congruenti andiamo a individuare la lunghezza di PQ P Q quanto sarà lungo PQ? beh utilizziamo la la legge che abbiamo già visto in geometria analitica che mi dice che se ho due punti la lunghezza del segmento che ha poi punti come estremi la trovo col teorema di Pitagora cioè la radice quadrata della differenza delle ascisse XP meno XQ alla seconda più la differenza delle ordinate YP meno YQ alla seconda ok analogamente la lunghezza di DA qui abbiamo la radice quadrata di la scissa di D meno quella di A alla seconda più l'ordinata di D meno l'ordinata di A tutta la seconda ok quindi qui ahimè c'è la radice quadrata ma l'eguaglianza PQ scusate non D che è uguale a D A possiamo anche scriverla in questo modo PQ alla seconda uguale a D A alla seconda in questo modo eliminiamo le radici ok quindi per esempio abbiamo che il che ne so scriviamo l'inverso cioè così D A alla seconda uguale a PQ alla seconda quindi la differenza XD meno XA al quadrato più YD meno YA al quadrato vale quanto XP meno XQ al quadrato più YP meno YQ al quadrato ok questo non è altro che una conseguenza di questa equazione scritta in termini cartesiani termini algebrici e l'abbiamo tenuta per costruzione cioè abbiamo fatto abbiamo riportato torniamo alla figura il triangolo OPQ in modo tale che Q coincida con A e quindi P va a cadere in D come facciamo a individuare D beh sarà individuato dall'angolo A OD che misura quanto Q OP sempre alfa meno beta e fin qui direi che non ci sono grosse cose da dire qui adesso andiamo a sostituire le coordinate in termini di funzioni angolari è tutto chiaro fin qui se devo ripetere qualcosa bene allora abbiamo visto che XD torniamo prima ecco l'ascissa di D D dove si trova eccolo qua D è individuato dall'angolo alfa meno beta quindi D ha come ascissa il coseno di alfa meno beta come ordinata il seno di alfa meno beta mentre A ha come ascissa 1 e come ordinata 0 quindi da qui andiamo a dire questo ecco XD diventa il coseno di alfa meno beta xA è 1 yD è 0 eh no scusate yD vale il seno di alfa meno beta mentre yA è 0 xP fatemi disegnare in blu xP anzi no come avevo indicato alfa alfa era in rosso ma l'ho già usato pazienza xP è il coseno di alfa yP è il seno di alfa e xQ è il coseno di beta mentre yQ è il seno di beta per cui questa relazione diventa il coseno di alfa meno beta meno 1 alla seconda più il seno di alfa meno beta meno 0 alla seconda vale quanto scusate vado vado a capoliga il coseno di alfa meno il coseno di beta tutto è quadrato più il seno di alfa meno il seno di beta tutto è quadrato non fatto altro che riscrivere l'eguaglianza della lunghezza dei segmenti in termini delle loro coordinate espresse con le funzioni goniometriche ok e qui sviluppiamo i quadrati e poi sfruttiamo la prima relazione fondamentale che ci semplificherà la vita parecchio vado avanti tutto bene ok allora sviluppiamo il quadrato quindi abbiamo il quadrato del primo del secondo e del doppio prodotto quindi ho il coseno alla seconda di alfa meno beta il doppio prodotto meno due volte il coseno di alfa meno beta e poi più uno il meno una seconda fa più uno poi più continuo qui ho un solo termine quindi più il seno al quadrato di alfa meno beta dall'altra parte dell'uguale abbiamo coseno alfa alla seconda meno due volte coseno di alfa coseno di beta più il coseno alla seconda di beta dalla prima parentesi ok poi più di nuovo il quadrato della differenza dei seni quindi ho sen quadro alfa meno due sen alfa coseno alfa più il seno al quadrato di beta quindi ripeto fatemi individuare ecco in questa parentesi mi da questi tre termini la seconda la differenza di quadrati mi da questi tre e da sinistra abbiamo che la prima parentesi produce questa differenza mentre la seconda facciamo in viola eccola e questa mi produce solo essendoci solo un termine questa ok ora attenzione qui abbiamo il coseno alla seconda di alfa meno beta più il seno alla seconda qui c'è un più più il seno alla seconda di alfa meno beta questi fanno uno ok riscrivo gli riscrivo in ordine abbiamo il coseno alla seconda di alfa meno beta poi meno due coseno di alfa meno beta più uno più il seno alla seconda di alfa meno beta ok da una parte poi dall'altra abbiamo il coseno alla seconda di alfa meno due coseno alfa per coseno beta più coseno alla seconda di beta più ancora il seno alla seconda di alfa meno due seno alfa se è un beta più se inquadro beta eccoli ora qui abbiamo che coseno inquadro alfa meno beta più se inquadro alfa meno beta questi insieme fanno 1 perché vale la relazione fondamentale della goniometria se sommo il seno al quadrato più il coseno al quadrato dello stesso angolo ottengo 1 quindi a questi due sostituisco 1 poi mi avanza meno 2 volte coseno di alfa meno beta per la stessa ragione a destra ho il cosen quadro di alfa più il sen quadro di alfa questi insieme fanno anche 1 quindi a destra metto 1 che viene da qua poi abbiamo il cosen quadro di beta più il sen quadro di beta questi anche insieme fanno 1 eccoci una domanda si è ragione qui manca un più uno certo fammi scrivere un poco meglio ok ottimo grazie e quindi qui ho il secondo 1 poi mi avanza a destra meno vado a capo meno 2 prodotto dei coseni coseno alfa per cosen beta e ancora meno 2 per il prodotto dei segni sen alfa sen beta ok quindi qui abbiamo 1 più 1 che fa 2 meno 2 coseno di alfa meno beta uguale a 1 più 1 che fa di nuovo 2 meno 2 cosen alfa cosen beta meno 2 sen alfa sen beta l'ho scritto un po' male perché sono un po' a corto di spazio allora i 2 e 2 possono essere semplificati questo 2 lo tolgo questo 2 anche e mi rimane a sinistra meno 2 volte il coseno di alfa meno beta e a destra meno 2 il prodotto coseno alfa per cosen beta e meno 2 sen alfa per sen beta a questo punto a destra posso raccogliere un meno 2 e ho cosen alfa cosen beta più sen alfa sen beta e qui semplifico tutto per meno 2 quindi alla fine ho che il coseno della differenza di due angoli alfa meno beta vale il prodotto dei coseni cosen alfa per cosen beta più il prodotto dei seni sen alfa per sen beta ecco la relazione che ci dà il coseno della differenza di due angoli cioè se mi serve sapere il coseno della differenza di due angoli questo vale quanto il prodotto tra il coseno del primo per il coseno del secondo più attenzione al segno il prodotto del seno del primo e del seno del secondo facciamo un esempio immaginiamo che alfa sia che ne so pi greco e beta sia pi greco terzi in questo caso calcoliamo quindi il coseno di pi greco meno pi greco terzi che abbiamo già visto con gli angoli associati che vale il coseno di pi greco terzi cioè è un mezzo ok vediamo se funziona anche usando questa relazione immaginiamo che questi siano due angoli qualunque quindi applichiamo questa relazione che abbiamo appena trovato quindi abbiamo il prodotto dei due coseni quindi cosen pi greco per coseno di pi greco terzi più il prodotto dei seni ah no qua scusatemi qui c'è un segno meno qui è meno un mezzo scusate ecco più il prodotto dei seni quindi sen pi greco per il seno di pi greco terzi allora qui abbiamo che il coseno di pi greco vale meno uno il coseno di pi greco terzi vale un mezzo il seno di pi greco vale zero il seno di pi greco terzi vale radici di tre mezzi quindi otteniamo che questo vale meno il coseno di pi greco terzi come abbiamo visto prima cioè meno un mezzo quindi le due formule si sostengono l'un'altra e possiamo immaginare questa come la generalizzazione degli angoli associati ok quindi questa è la prima delle relazioni che sono relative alla in questo caso sottrazione di angoli e se devo fare la somma e per la somma devo rifare tutto risposta certo che no la somma di due angoli di alfa più beta posso sempre pensarla come alfa meno meno beta ci faccio la differenza tra il primo angolo e l'opposto del secondo e quindi la riscrivo quindi il coseno di alfa più beta posso pensarlo come il coseno di alfa meno meno beta quindi scrivo la stessa relazione di prima ma cambiando segno a beta quindi ho il prodotto dei coseni coseno alfa per coseno meno beta più il prodotto dei seni seno alfa per seno di meno beta ma coseno meno beta è uguale a coseno beta quindi questo è coseno alfa per coseno beta invece il segno di meno beta è meno sen beta quindi basta mettere un segno meno davanti morale della favola il coseno della somma di due angoli vale quanto il prodotto dei coseni coseno alfa per coseno beta meno il prodotto dei seni seno alfa per sen beta ecco il coseno della somma di due angoli di attenzione al coseno che ha questa caratteristica se qui ho scusate se qui ho la somma di angoli a destra ho la differenza dei prodotti di coseni meno quella dei seni dove ho il coseno della differenza a destra ho la somma del prodotto di coseni per il prodotto dei seni per più il prodotto dei seni vediamo se ce la facciamo fare anche penso di sì abbiamo fatto il coseno della differenza proviamo a fare il seno della differenza siamo interessati al seno di alfa meno beta ok ma abbiamo visto che se mi interessa il seno di un angolo posso sempre pensarlo per esempio che ne so mettiamo il seno di un angolo x posso pensarlo sempre come il coseno di pi greco mezzi meno x qualunque sia x quindi nel nostro caso avremo che il seno di alfa meno beta per sfruttare quanto abbiamo appena fatto quel coseno lo scriviamo come il coseno di pi greco mezzi meno l'angolo che ci interessa che è alfa meno beta quindi abbiamo qui possiamo togliere le parentesi il coseno di pi greco mezzi meno alfa più beta e quindi adesso questo possiamo pensarlo come il coseno di mettiamo insieme i primi due pi greco mezzi meno alfa più beta e quindi abbiamo il coseno del primo angolo per il coseno di beta meno il seno del primo angolo per il seno di beta quindi qui abbiamo quindi coseno di pi greco mezzi meno alfa per coseno beta meno il seno di pi greco mezzi meno alfa per sen beta ma abbiamo già visto che questo vale sen alfa e questo vale coseno alfa di conseguenza questa espressione possiamo scriverla come il seno di alfa per il coseno di beta meno il coseno di alfa per il seno di beta ovvero sia riassumendo il seno della differenza alfa meno beta vale il prodotto tra il seno del primo e il coseno del secondo meno il coseno del primo per il seno del secondo e abbiamo il seno della differenza ripeto se sono interessato al seno della differenza di due angoli questo posso esprimere come il seno del primo angolo per il coseno del secondo angolo meno il coseno del primo per il seno del secondo o qui se potete potete preferire anche cosa se in beta per cosa in beta come come volete anche qui per passare dal seno della differenza al seno della somma quindi seno di alfa più beta posso immaginare di fare il seno della differenza alfa meno meno beta quindi copre quella di prima cambiando segno solo a beta quindi avrò seno di alfa per il coseno di alfa per il seno di meno beta ma il coseno di meno beta vale cosen beta il seno di meno beta vale meno sen beta quindi qui avremo seno di meno quindi qui avremo sen alfa per coseno beta quindi qui avremo sen alfa per coseno beta ecco fatto abbiamo ottenuto anche l'espressione l'espressione del seno della somma ok mettete più in alto così vedete meglio e ci rimane da fare la tangente ma prima della tangente volevo provare a fare qualche applicazione possiamo completare con la tangente come una volta che abbiamo fatto abbiamo fatto tutto vediamo la tangente la tangente per esempio che ne so cominciamo con la differenza la tangente di alfa meno beta qui sarebbe utile esprimere per esempio in funzione della tangente di alfa e di beta per fare questo è sufficiente usare la seconda relazione fondamentale della goniometria cioè questa è uguale al seno di alfa meno beta fratto il coseno di alfa meno beta il seno di qualsiasi angolo cioè la tangente scusate il rapporto fra il seno e il coseno dello stesso angolo qui utilizziamo le relazioni appena viste al numeratore seno della differenza è sen alfa per cosen beta meno cosen alfa per sen beta al denominatore il coseno della differenza è il prodotto dei coseni cosen alfa cosen beta più il prodotto dei seni sen alfa per sen beta ora qui per riuscire ad avere la tangente dovrei avere al numeratore e al denominatore essendo fratto coseno dello stesso angolo è abbastanza semplice vedere che si ottene questo dividendo quindi divido numeratore e denominatore per il prodotto dei coseni cosen alfa per cosen beta quindi otteniamo che cosa la tangente ripeto di alfa meno beta possiamo esprimerla come quindi ogni termine numeratore e denominatore lo divido per cosen alfa cosen beta quindi avremo sen alfa cosen beta e questo questo lo riprendo e divido ogni termine per cosen alfa cosen beta lo posso fare in virtù del principio invariantivo delle frazioni se una frazione divido il numeratore e denominatore per lo stesso termine la frazione rimane dello stesso valore qui mettiamo cosen alfa cosen beta poi ho meno qui avevamo cosen alfa sen beta e sotto sempre cosen alfa cosen beta e sotto analogamente abbiamo cosen alfa cosen beta fratto di nuovo cosen alfa cosen beta cosen alfa cosen alfa cosen beta allora qui abbiamo che possiamo semplificare due coseni cosen beta cosen beta va via rimane la tangente di alfa qui semplifichiamo il cosen alfa rimane la tangente di beta qui semplifichiamo tutto rimane 1 e qui rimane il prodotto delle tangenti qui c'è la tangente di alfa e qui abbiamo la tangente di beta morale della favola la tangente della differenza di due angoli alfa meno beta vale da sopra qua ci rimane sen alfa cosen beta cosen alfa quindi c'è la tangente di alfa meno la tangente di beta fratto 1 più il prodotto delle due tangenti tangente di alfa per tangente di beta ecco la relazione che ci dà la tangente della differenza di due angoli per la somma non faccio altro che riscrivere questa cambiando segno a beta quindi la tangente di alfa più beta è la stessa di prima cambiando segno a beta sapendo che però la tangente dell'angolo opposto cambia di segno quindi ho tangente di alfa più la tangente di beta e 1 meno il prodotto delle tangenti e questo conclude quanto relativo alle tangenti ok ditemi se ci sono dubbi o domande un esempio di questo premio calcoliamo che ne so scusate non volevo scrivere in rosso ho concilato anche questo senza volere allora supponiamo di calcolare per esempio le funzioni goniometriche di un altro di di 30 per esempio più 45 gradi quindi 75 gradi che corrisponde a pi greco sesti più pi greco quarti dobbiamo applicare la relazione per il coseno della somma quindi qui viene il coseno del primo angolo pi greco sesti per il coseno del secondo angolo media di coquarti meno il seno del primo angolo S pi greco sesti per il seno del secondo angolo pi greco e quarti quindi qui abbiamo S pi greco sesti e radici di tre mezzi cosenzi greco quarta e radici di due mezzi meno S pi greco sesti è un mezzo per S pi greco quarta radici di due mezzi qui abbiamo quindi radice di 3 per radice di 2 che fa radice di 6 quarti meno radice di 2 quarti se vogliamo scrivere con un unico denominatore radice di 6 meno radice di 2 quarti quindi qui siamo riusciti a scrivere il valore esatto del coseno dell'angolo di 75 gradi o di pi greco sesti più pi greco quarti ok che possiamo anche quindi 4 più di 6 quindi 10 e dodicesimi di pi greco cioè di scusate un secondo non è 6 ma è 3 quindi qui fa 7 dodicesimi di pi greco no no con 2 scusate oggi sono un po' inbranato 2 3 5 dodicesimi di pi greco e lo stesso modo si possono calcolare il valore del seno e della tangente dello stesso ordine sempre di 75 gradi questo ve lo lascio per esercizio oggi mi fermo qui è un po' inbranato non so